un caro saluto a voi che seguite non di solo pane ci ricordiamo qualche giorno fa sono terminate le paralimpiadi e la prima medaglia nella prima giornata è stata vinta il bronzo da lorenzo bernard accompagnato a davide plebani nei 4000 metri dell'inseguimento in tandem questa specialità del ciclismo su pista chi è lorenzo come ha fatto perdere la vista perché ha perso tutti i due gli occhi ce lo racconta in questa intervista che ci aveva fatto siamo noi di tv 2000 l'anno scorso a fine settembre 2023 ce lo racconta proprio nicolas il suo amico erano insieme quando è scoppiata quella bomba della seconda guerra mondiale era il marzo 2013 eravamo ospiti insieme l'anno scorso a siamo noi ascoltiamo nicolas e poi un breve mio commento sulle guerre oggi ci aiuta a capire le guerre del passato e le guerre oggi voglio dare il benvenuto a nicolas marzolino associazione nazionale vittime civili di guerra grazie nicolas perché sei qui con noi grazie a voi allora nicolas io voglio partire subito andando a quel marzo marzo 2013 che di colpo marzo il mese della primavera ha fatto tutt'altro ha sconvolto cambiato completamente la tua vita siamo a novalese siamo in provincia di torino che cosa è successo che cosa è successo eravamo ragazzini avevamo 15 anni eravamo io e il mio amico lorenzo e stefano e stavamo preparando un campo era appunto primavera si facevano i primi lavori per per poi seminarci delle patate quando abbiamo trovato nel terreno un oggetto rosso argentato curioso che io prendevo in giro lorenzo gli dicevo sembra un lumino da camposanto quello non era un lumino da camposanto ma una breda 35 un ordigno una bomba a mano italiana della seconda guerra mondiale di cui tu allora non sapevi nulla ma assolutamente no e infatti ci ho lasciato la mano destra completamente la vista più varie ferite dappertutto lorenzo anche lui completamente la vista per fortuna stefano era dietro di noi è stato coperto dai nostri corpi dall'esplosione e ha avuto dei danni dei danni lievi ecco è stata una corsa contro il tempo è stata un'esplosione fragorosa la prima a sentirla e a capire con l'intuito tipico di una mamma è stata appunto la tua di mamma che ha subito allertato tuo padre e se ricordo bene sono stati i tuoi genitori i primi da correre sì in realtà le prime persone che sono accorse sono stati dei guardia a caccia che hanno sentito il botto e hanno pensato che fossero dei bracconieri però sì comunque il boato si è sentito anche a chilometri da lì e mia mamma proprio per già che mia mamma non avevamo tutto sto gran rapporto eppure l'istinto di mamma ha fatto sì che ha detto questi sono loro che hanno fatto qualche cazzata e non aveva tutti i torti e quindi ha chiamato mio papà e mio papà sì è una delle prime persone che è arrivata e quindi cioè oltre il danno a me uno shock tremendo senti allora lì arriva ovviamente una corsa una corsa verso l'ospedale in ospedale si è dovuto rimanere parecchio tempo tu hai raccontato alla redazione che c'era tanta gente sotto le finestre che pregava incessantemente per te evidentemente quelle preghiere sono arrivate insomma sono state raccolte nella percorso che hai fatto per riprenderti in mano letteralmente la tua vita c'è un amico che ha avuto un ruolo importante Andrea con cui avete realizzato qualcosa che ha fatto la differenza sì io direi che è una storia d'amore quasi Andrea Andrea Grandis ci conoscevamo da parecchio perché correvamo insieme ci allenavamo in atletica leggera lui sempre stato appassionato di elettronica oggi li chiamano i nerd diciamo e un giorno arriva a casa mia io faccio l'osteopata quindi gli ho fatto un trattamento va male da qualche parte e mi fa ti devo far vedere una cosa e mi mette questa mano sul lettino io dico ma cos'è Andrea e lui dice ti sto costruendo una protesi io da quando ti è successo l'incidente volevo fare qualcosa per te da lì io sono rimasto veramente impressionato e da lì appunto con l'associazione nazionale vittime civili di guerra abbiamo intrapreso una strada che stiamo portando avanti e si sta diciamo sviluppando veramente un bel progetto sia per noi che per Andrea riguardo alla protesi adesso poi parliamo anche di questo e parliamo anche del tuo ruolo per l'associazione nazionale direi che insomma per tornare a vivere con la serenità che manifesti ora sei arrivato qui con la tua ragazza in studio c'è stato anche qualcos'altro che ha contato molto hai pregato parecchio anche tu hai scoperto a modo tuo la potenza della preghiera allora innanzitutto mia moglie tua moglie mi perdoni eh visto che parliamo di fede è arrivata bella come il sole comunque ci teniamo noi anche alla tradizione cristiana e quindi crediamo nel matrimonio sì allora in primis dopo l'incidente la mia idea era se c'è un dio lo farei a pezzi con quello che mi è successo mia zia è stata una grande mentore mia zia ha studiato studiato anche le filosofie orientali quelle che poi ho letto anch'io insieme al Vangelo e mi ha detto ma non è che puoi pensare che se ti è successo qualcosa c'è un motivo dietro dovevi percorrere un'altra strada ed è così ed è così io sono sono convinto ora che questo incidente questo questo orrendo trauma è stata una benedizione è stata una benedizione se sai sfruttarla però credo che appunto che ci sia una forza un'entità sovrannaturale un dio possiamo chiamarlo come come vogliamo che comunque ci guidi ci sostegni e ci bacchetti anche quando e di sicuro questo questa strada ti ha portato a fare qualcosa che non è solo per te stesso ma per molti altri perché poi di fronte a tragedie come queste si può reagire nella rabbia nella frustrazione tu non hai fatto questo hai cercato anche di capire realizzando che insomma ogni anno io guardavo dei dati del 2022 migliaia di ordigni vengono disseppelliti alcuni fanno delle vittime solo pochi giorni fa un bambino di 10 anni in provincia di Pordenone ha perso la vita maneggiando uno di questi ordigni che era in un garage in un ripostiglio ecco tu hai acquisito questa consapevolezza giri per raccontare quello che è accaduto e per dire attenzione attenzione alle armi assolutamente allora guarda diciamo che quello il mio ruolo si divide in due vabbè come associazione facciamo appunto attività sul territorio italiano di informazione di sensibilizzazione e poi aiuti umanitari azioni abbiamo fatto all'estero abbiamo dei centri protesi e tante altre cose ma quello che credo io sono due cose uno banalmente ragazzi quello che è successo a me non voglio che succeda ad altri quindi imparate queste cose conoscetele e non toccate seconda cosa è proprio l'idea di creare una coscienza di pace nelle persone cioè quando tu ragazzino sarai grande diventerai ingegnere diventerai un politico avrai un ruolo nella società tu puoi scegliere da che parte stare tu puoi scegliere per andare a lavorare per l'industria di armi o tu puoi scegliere invece di non lo so andare a lavorare per emergency per qualche azione umanitaria e quindi è questo che almeno qua con i ragazzi in Italia come associazione cerchiamo di fare lo state facendo efficacemente tu parlavi delle scelte dell'importanza delle scelte ogni scelta ha una conseguenza e lo sappiamo bene perché la scelta di fatto quando la guerra la seconda guerra mondiale era già finita di lanciare due bombe delle bombe atomiche in Giappone Hiroshima e Nagasaki per porre fine della resistenza giapponese è una scelta che pesa come una macchia nella storia dell'umanità tutta che ci riguarda tutti e oggi non a caso è la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari siamo lontani da questo obiettivo che non è una data simbolica che significa questa data per te Nicolas? Allora questa macchia come l'hai chiamata tu io lo chiamerei più un crimine perché è stato un vero e proprio crimine disumano ce la portiamo dietro ce la porteremo dietro sperando che visto il momento storico visto le varie tensioni non ci pensino a sganciarne qualcun'altra perché sarebbe veramente la fine e questa giornata è importante come è importante tante altre giornate o tante altre cose che comunque arrivano ed è quello in cui io credo dalla società civile perché comunque non sono i governi e non sono gli eserciti che vogliono distruggere le armi e finire le guerre ma sono le persone comuni quelle che poi ricade solo il peggio nel caso peggiore le bombe in testa o comunque come abbiamo già visto nell'ultimo anno dove sonvenzioniamo la guerra in Ucraina semplicemente ho pagato il pellet quattro volte tanto quello che pagavo Nicolas diciamo la consapevolezza è che quello che è cambiato l'abbiamo visto dalla seconda guerra mondiale in poi è che le vittime delle guerre sono soprattutto civili Allora dalla seconda guerra mondiale in poi siamo arrivati nella maggior parte delle guerre al 90% dei civili quindi praticamente per salvarti la pelle devi fare il soldato Che è un paradosso folle È un paradosso forte assolutamente e soprattutto lavori e diciamo legislazioni i trattati ne sono già stati fatti tanti le convenzioni di Ginevra, i trattati sul controllo delle armi nucleari il trattato di Ottawa contro le mine antivuomo e poi i grandi big come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina non li firmano in Ucraina abbiamo gli ucraini che lanciano su Donetsk le munizioni cluster uccidendo i civili È una questione che ci interroga tutti e che insomma riguarda non solo il presente efficacemente ce l'ha dimostrato il futuro è veramente una storia che è dell'incredibile anche quella personale di Nicolas di un ragazzo la cui vita viene stravolta da un ordigno che è stato seppellito insomma decenni fa Nicolas io ti ringrazio per la tua testimonianza soprattutto per quello che fai, che stai facendo, che continui a fare grazie, grazie davvero Sì, grazie a Nicolas e grazie anche alle amiche e amici di Siamo Noi, Gabriella e tutta TV2000 Vi annuncio che la settimana prossima ci sarà anche Don Angelo, Don Giorgio con qualche sorpresa e qualche ospite e magari già martedì nel telegiornale parleremo velocemente di questa iniziativa per la sanità nel VCO per un servizio socio-sanitario attento agli ultimi che era un appello fatto nel 2011 pensate che coinvolgeva le parrocchie, i vicariati la Caritas e avevamo raccolto 6.700 firme consegnate all'allora assessore regionale alla sanità Monferrino ci vediamo martedì e poi venerdì con non di solo pane arrivederci